Ciao a tutti ragazzi, giocheremo oggi in la reazione dell'Alphabet Lore, sempre del suo creatore, di Mike Salcedo, che è la fine di Alphabet Lore. Quindi prima la F non era affettiva, però morta era lo stesso. Ma chi se lo ricordava? Erano bambini, avevano due anni. Cicca. Si sta... i punti di Z stanno... ormai stanno facendo andare dietro il tempo. Qui ha donato il punto interrelativo, ma che era di Q, l'aveva preso Q. Che sta succedendo? Di nuovo con il suo stupido finale, cioè... L'ho capito ormai che è così. Ah, è diverso. Questi sono i bulli e questa è la F. Con chi deve andare? Non puoi solo incommodarlo questa volta. Ci si mette davanti e un bugio che passa. E lei ha pure, ma bisogna vada F. Quindi andate indietro nel tempo per fare questo? Si sono presi i pugni, malissimo! Questi sono i poteri, e quindi della gattina hanno uniti i poteri, ma si sono messi. Quindi ora hanno i poteri da grande? Lo scopriremo quando uscirà la parte 3 di Alfabeto Loro. Ma si, questo era successo. Pianto vuole il potere che c'era un punto esclamativo di più. Ora zetta piccola e felice. Prima non l'avevamo vista sul vero Alfabeto Loro. Bello! Ora mi scrivo. Come 67 video, se ha un miliardo di iscritti. Ma se lo merita un like. Non faccio mostrare altro perché poi uccide tutto. Li guardiamo F. F. Ah! Guardiamolo da questo porto. Non lo voglio, non voglio la pubblicità! Levate, levate, levate! Non so che era vato da solo. Non siamo voluti. Non so che era vato da solo. Pianto, l'avevamo già visto, ma è un bonus. Non so cosa serve per te, è un bonus. Povera Anna. F si vuole vendicare. Quindi prende A, R e T e forma un quarto. Il prank di Bebe. Cioè il Bruller App. Già l'ho detto. Questo è Morta. Guarda. Perché c'era A che si è allontanata poi? Non mi piace questa cosa. Miauua! Appianto poteri! Oh no! Addio, addio! Addio, addio! Oddio, 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 oddio! Si è bloccato! Si è bloccato Rob! No, 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 no! Veramente non vedete niente. Ah, ho censurato Bruce. Vabbè. Non se lo meritavano. Tutti i colpi si meritavano, non lei. A meno F si è vendicata su tutte le lettere. Nooo! Che è successo? Ma io ho messo i video di Gino, l'avete visto per noi. C'è scritto pure un ex al cedo. Non so, hai cambiato il video? Fatti un nuovo video. Non me lo ricordo. E a me mi sembrava che questo video era di un altro creatore che aveva venditato così bene che si capiva che era di Mike's al cedo. Invece era proprio di Mike's al cedo. Non era... Non era... Non era di un altro youtuber... Youtuber... Che c'è da youtuber? Cape Cazzo? Sto fattere? Ma non è massimo. Vabbè, ho detto troppi youtuber. Ah, c'è anche youtuber Cadia Fazio. Andatelo a seguire. Ma non era successo questo su... Vabbè... Su Alphabet e Marino. Che mi hanno fatto vedere. Il video. Come tutto abbiamo visto. Ma io voglio vedere la parte 2. La parte 3. E se c'è una parte 3 è bellissimo. Ziiiid. Andio. Andio. Grazie.